Capitano Price, il colo tra un minuto! Fregatevi se volete un passaggio! Stop! Non abbiamo molto tempo! Nicolai non rimarrà ad aspettarci! Ci muoviti! Elimina quella finiera! Tenetevi forte! Dietro di noi! A destra! A destra! Tenetevi stretti! Tenetevi forte! Nicolai sto passando sulla pista! Ormai ci siamo! Veicoli a ore 12! Stop! Luke è morto! Prendi tu il volantè! Vai verso la rampa!